La storia del servizio civile nazionale e in particolare dell'obiezione di coscienza è stata ripresa in più libri che vogliono essere una testimonianza dell'impegno civile, morale e legislativo che ne ha accompagnato lo sviluppo e la crescita. Ci sono vari volumi da poter consultare per conoscere questo aspetto del nostro paese e per chiarire le idee a quanti vorrebbero fare un'esperienza di servizio civile, ma non si sentono abbastanza informati per prendere coscientemente una decisione di questo tipo. Il primo libro che vi consigliamo è di Sergio Albesano, è stato scritto nel 1993, si intitola Storia dell'obiezione di coscienza in Italia ed è edito da Santi 40 Treviso. Questo saggio ha ottenuto più di 70 recensioni su quotidiani e periodici, fra cui il Sole 24 Ore. In un'analisi ricca ed efficace si snoda in questo saggio la luminosa storia degli obiettori di coscienza italiani, contro il militarismo e la routine armata. Essi rifiutano il mestiere delle armi, ma non quello, tranne rarissimi casi, di un servizio ideale e sociale alla comunità nazionale. Un altro libro interessante è di Alberto Trevisan, Ho spezzato il mio fucile, Storia di un obiettore di coscienza, EDB 2005. Alberto Trevisan è tra i fondatori dell'Associazione per la Pace e fa parte del coordinamento nazionale del movimento non violento. Il suo libro si offre come messaggio testimonianza di quei giovani che manifestano nelle marce per la pace o nelle assemblee no global. Racconta l'esperienza di un obiettore disposto a pagare di persona con la reclusione la coerenza dei propri ideali. Rispecchia i sentimenti di molti ragazzi e ragazze che oggi possono svolgere volontariamente il servizio civile. Gli altri due volumi che vi proponiamo sono stati scritti da Diego Cipriani, che ha svolto mesi di servizio civile come obiettore di coscienza presso la Caritas Diocesana di Bari per poi lavorare dal 1990 alla Caritas Italiana come responsabile del settore obiezione di coscienza e servizio civile. In seguito è diventato presidente della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile che raggruppa i maggiori enti di servizio civile in Italia. In questo modo ha potuto seguire da vicino la riforma della legge sull'obiezione di coscienza e la nascita del Servizio Civile Nazionale. Dal 1993 al 1997 è stato vicepresidente dell'Ufficio Europeo delle Obiezioni di Coscienza e dal 2001 al 2005 consulente dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Il 4 agosto 2006 è stato nominato direttore generale dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Diego Cipriani Infine, l'ultimo libro che vi segnaliamo è di Francesco Spagnolo. Si intitola Prendi un anno da regalarti, piccola guida al nuovo servizio civile, AVE Editore 2003. È una piccola guida per tutti quei ragazzi che vorrebbero impegnarsi in un'esperienza di servizio civile ma non sanno a chi rivolgersi, non sanno quali vantaggi potrebbero trarne e non sanno che cosa è diverso rispetto all'obiezione di coscienza. Un manuale che vi permetterà di imparare a districarvi tra leggi e decreti incomprensibili. Il volume contiene anche un facsimile di domanda di ammissione al servizio civile volontario, un pronunciamento in materia di Giovanni Paolo II, una piccola storia dell'obiezione di coscienza in Italia, indicazioni bibliografiche e link per approfondire. Ci sono molti altri libri interessanti che offrono spiegazioni, testimonianze, storia e ideali che accompagnano sin dalla sua nascita l'obiezione di coscienza e il servizio civile volontario. A questo proposito vi lascio il link della pagina del sito del Servizio Civile Nazionale in cui potete trovare anche altri titoli e altri autori che possano ancora meglio soddisfare la vostra curiosità. www.serviziocivile.it slash pubblicazioni